Abbiamo intervistato nei nostri studi Emanuel Ruocco, il presidente della cooperativa Vivi Cilento di Agropoli, per tracciare un bilancio delle festività natalizie per gli operatori turistici. Ruocco si è complimentato con tutte le persone che si sono impegnate per l'organizzazione degli eventi che hanno animato queste festività e ha parlato di numeri importanti come 10.000 arrivi nella città di Agropoli, anche se ha messo in evidenza che la ricaduta economica di questo intenso periodo sulle strutture ricettive è stata scarsa e ha invitato l'amministrazione ad incentivare chi non vive di turismo solo un mese, ma tutto l'anno. Mi va di complimentarmi sicuramente con le persone che hanno avuto modo di impegnarsi tanto per l'organizzazione di tutti gli eventi che hanno animato le serate e le giornate agropolesi. Ho sentito parlare di numeri comunque importanti di 10.000 presenze su cui voglio specificare, poi si parla di 10.000 arrivi sostanzialmente perché la presenza dal nostro punto di vista è una chiave di lettura un po' diversa. Tanto è vero che pur leggendo, pur sentendo parlare di 10.000 numeri, 10.000 persone presenti nei 30 giorni della casa di Babbo Natale e tutti gli altri eventi, sostanzialmente la ricaduta poi economica sulle strutture ricettive piuttosto che sui ristoranti è stata scarsa, ma voglio essere ottimista nel dire scarsa. Questo ovviamente non possiamo parlare da questo punto di vista di un periodo che ha visto il successo dal punto di vista della ricettività. Come sempre faccio nel migliore dei modi, cerco di essere propositivo e invito ovviamente l'amministrazione, tutte le associazioni che organizzano questi eventi a coinvolgere effettivamente la ricettività del territorio per riuscire a crescere anche nell'offerta turistica. Ritengo sia fondamentale interpellarci perché la nostra opinione sicuramente che viviamo quotidianamente di questo lavoro, non un mese all'anno, credo sia fondamentale o comunque necessaria. In seguito abbiamo parlato con il presidente di Vivi Cilento della necessità di un confronto fra amministrazione comunale e operatori turistici al fine di capire quali siano i punti da valorizzare per avere una maggiore affluenza non solo durante gli eventi, ma anche durante le festività o prima, nominando anche la consulta del turismo che Agropoli non è istituita. Emanuele Ruocco ha evidenziato il suo dispiacere per la non presenza di quest'organo sul territorio agropolese, anche perché grazie all'imposta di soggiorno gli operatori turistici garantiscono cospicue entrate al comune e secondo Ruocco sarebbe necessario avere un maggiore confronto con chi vive di turismo e lo conosce a fondo. Diciamo che è un organo che in effetti già è stato deliberato se non ero nel 2011, quindi in effetti già esiste, poi purtroppo non è stato mai organizzato dalle varie rappresentative locali. Noi con il comune ovviamente dialoghiamo spessissimo, non ti nego che anche quando si parlava dell'imposta di soggiorno, fummo convocati e esprimemmo la nostra opinione nella speranza che appunto questo imposta di soggiorno, volgarmente chiamata tasse di soggiorno, sarebbe potuto diventare un importante strumento dove investire in eventi e dove tramite la consulta. Purtroppo questo non è avvenuto e questo me ne dispiace. Vedere che alla fine noi partecipiamo all'economia del territorio ma poi questo passaggio non avviene, quindi non veniamo consultati o comunque non si crea un organo composto da tutte le realtà del territorio, non solo ovviamente la struttura ricettiva, anche il commercio vedo che sia un po' assente e credo sia un'opportunità che va accolta. In chiusura dell'intervista è stato toccato anche l'argomento turismo mordi e fuggi e con Emanuele abbiamo provato a capire cosa manca ad Agropoli per avere un turismo meno rapido. Secondo lui, in rispetto dell'eccellenza territoriale in cui ci troviamo, i turisti dovrebbero essere invogliati non solo a visitare la città di Agropoli e ad andar via, ma anche a restare e per rendere in realtà questo tipo di turismo servirebbe più coesione e anche aiuto dalle associazioni e istituzioni locali. Invoiare le persone a venire non solo per guardare il borgo, il castello o la casetta di Babona, ma invogliarle a farle rimanere perché sostanzialmente abbiamo tante armi da poter usare in tal senso. Ovviamente da soli noi non ce la facciamo, chiunque altro da solo non ce la fa perché purtroppo ad oggi è dimostrato dal fatto di questo mese intenso di eventi natalizi che non c'è una visione a lungo raggio, una visione che appunto permetta al turista di rimanere più giorni. Tanto è vero che le presenze o gli arrivi sono stati scarsi, fatto salvo il 31, dove ascoltando un po' tutto il territorio circa il 50% delle strutture ricettive erano chiuse, l'altro 50% ha lavorato a singhiozzo, molto singhiozzo, per lavorare discretamente il 31, soprattutto poi quelle legate appunto alla ristorazione che hanno avuto buoni riscontri, però sappiamo bene che l'italiano, diciamo il 31 è una festa importante e mira a farla, però visto che l'ospite, il turista arriva qui per fare il cerone, ma perché non anticipare qualcosa al 30 e continuare l'1 in modo tale che rimanga più giorni, perché effettivamente soprattutto quest'anno il clima è stato favorevole, ci sono state poche piogge in quei giorni e quindi era interessante poter proporre altre soluzioni per prolungare il loro soggiorno.